Flop dell'Isola dei Famosi che perde ancora la sfida degli ascolti con Rai 1. La seconda puntata trasmessa ieri, infatti, ha incollato davanti ai teleschermi solo due 405.000 spettatori pari al 13.28% di share contro 5.682.000 spettatori pari al 21. 21.2% di share della fiction di Rai 1 che Dio ci aiuti. Un vero e proprio crollo quello del reality show di Canale 5 che, domenica 3 febbraio, si sfiderà con che tempo che fa di Fabio Fazio. 22. Andrà meglio. I risultati della puntata domenicale dell'Isola potrebbero convincere Mediaset a cambiare definitivamente la programmazione trasmettendo il reality sempre di domenica. 23. Il giovedì, infatti, è un giorno prebitivo per gli ascolti. La Rai, ogni anno, dedica il giovedì alle sue fiction migliori, difficili da battere. 24. Per Alessia Marcuzzi, dunque, la sfida dell'Isola diventa ancora più complicata. Nonostante il cast variegato, al momento, mancano le dinamiche. 25. Con l'arrivo di Bettarini e Joe Squillo cambierà qualcosa. Grecia ha Televoto, ma contro chi? 25. Chi finirà in nomination contro Grecia? La nominata del leader della settimana Paolo Brosio. Per scoprirlo sarà necessario aspettare domenica 3 febbraio quando l'Isola dei Famosi 2019 tornerà in onda con quella che, sostanzialmente, sarà la seconda parte della puntata trasmessa ieri. 26. Nell'appuntamento domenicale con il reality show condotto da Alessia Marcuzzi. 27. Sarà dato ampio spazio alle nomination. 27. Finora, infatti, l'unico nome al televoto è proprio quello di Grecia. A sfidarla potrebbe essere un'altra donna ovvero Damitra che, dopo essersi salvata dallo scontro con Kaspar e Taylor Mega, è, al momento, il nome più gettonato per le nomination. 28. Nel frattempo, sui social, non si placano le polemiche su John Vitale che, pur avendo chiesto scusa per le frasi dette su Barbara D'Urso, continua ad essere nel mirino del web che avrebbe gradito una punizione esemplare. 29. Paolo Brosio leader della settimana.Paolo Brosio è il nuovo leader dell'Isola dei famosi 2019 29. A partire da oggi e per tutta la settimana sarà infatti il pirata che avrà potere decisionale sugli altri naufraghi 30. Ma il leader ha lasciato tutti di stucco quando, pur avendo a disposizione una polpetta, ha scelto di mangiarla per solidarietà nei confronti di Abdelkader Jezzal, il quale, secondo i dettami del suo culto, non può assumere carne. 31. Non è della mia religione ma amo come un fratello ha spiegato Brosio per motivare la sua decisione 32. Le sue parole, un messaggio di amore e fratellanza che trascende la dottrina religiosa, si sono concluse con un abbraccio, che in conclusione di puntata ha commosso tutto il pubblico di Canale 5 32. Seconda classificata nella prova leader Grecia Colmanaris, voto 9, che ha conquistato il titolo di capo della ciurma, ma è stata nominata da Paolo Ambrosio, nominata, ma non in nomination, da Mitra Ampton, attualmente in bilico in attesa delle votazioni della ciurma 33. Eliminata, seppur tra mille polemiche, Taylor Mega, che ha dovuto lasciare il rialati dopo solo una settimana 33. Taylor Mega spazza via il drogagate.L'isola dei famosi 2019 cambia registro, a distanza di un anno da un'edizione da dimenticare, che ha visto al centro di tutte le trame il chiacchieratissimo Canma Gate 34. La nuova stagione riparte dal messaggio di Taylor Mega, che si è lasciata alle spalle un passato da tossicodipendente 35. L'influencer ha infatti dedicato un accorato appello al pubblico più giovane, spazzando via, con un eloquente non drogatevie, quel modus operandi che, probabilmente a causa di un mancato approfondimento in studio, lo scorso anno sembrava quasi voler mettere a tacere una questione che avrebbe meritato una vita In poche parole, nel bel mezzo della querela che Francesco Monte ha fatto recapitare a Eva Enger, in Honduras e nei principali salotti televisivi l'argomento principale è ancora il Canna Gate, ma questa volta il messaggio dell'isola sembra essere quello giusto, grazie a un influencer che sfrutta la propria popolarità per alzare il velo su un concetto fino a oggi poco esplorato Tutti contro John Vitale.Come ogni leone da tastiera che si rispetti, messo di fronte alle proprie responsabilità sui post contro Barbara D'Urso, John Vitale ha fatto un passo indietro A bacchettarlo, nel corso dell'isola dei famosi 2019, soprattutto Alessia Marcuzzi, che ha criticato la sua scelta di partecipare a Pomeriggio 5, e alla luce delle sue particolari idee sulla conduttrice, la cosa che mi fa arrabbiare tantissimo è che in questo periodo i leoni da tastiera scrivono cose indicibili sui personaggi e poi quando li incontrano li elogiano, ha sottolineato la padrona di casa Noi adulti dovremmo dare l'esempio ai giovani, questo è bullismo e fa soffrire le persone Contro di lui anche Alba Parietti, secondo la quale queste frasi, scritte con leggerezza, perché non sei stato neanche così furbo da cancellarle, fanno parte di una cultura dilagante contro le donne Ma parole al detriolo sono state pronunciate anche da Alda Neusagnor, che ancora una volta si è espressa senza mezzi termini, tu non sei un leone da tastiera sei un imbecille con o senza tastiere, le parole offendono più delle armi Il Divino Hotelma già protagonista.L'arrivo di Divino Hotelma sull'isola dei famosi 2019 ha regalato al pubblico del reality una serie di colpi di scena Dopo aver polemizzato contro un gioco a suo dire differente da quello che gli autori gli avevano anticipato poco prima di mettere piede a Chaos Cochinos, il concorrente ha accettato di partecipare alla gara, ma nel bel mezzo di una serie di lance alla fionda è stato sbattuto a terva da uno spintone della Cipriani In un primo tempo si è pensato che il Divino fosse caduto a terra poiché colpito dal rinculo della fionda, ma poco dopo un video rallenti ha mostrato la vera sequenza degli eventi, restituendo le immagini dello spintone di Francesca Cipriani che l'ha mandato Catta O il Divino Hotelma, soccorso prontamente dal medico del reality, è stato sollevato da terra e allontanato dalla spiaggia La caduta secondo quanto raccontato in diretta da Alvin gli ha procurato un taglio sulla testa, ma a quanto pare non è così grave da compromettere il suo percorso all'isola Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like